Alla partita Veronica Maia sarà una commentatrice speciale assieme alla collega Sofia Bruscoli, con la quale affiancherà il conduttore Fabrizio Rocca. All'eventola nazionale Attori festeggerà il cinquantesimo anniversario della sua fondazione sfidando una squadra di tifosi partenopei con l'obiettivo di raccogliere fonti per Savet e Children. E in attesa della messa in onda, scopriamo qualcosa sulla vita privata di Veronica Maia. Nata a Parigi, ma cresciuta a Sorrento, il 14 luglio del 1977, ha quasi 44 anni. La sua altezza è di un metro e 70 centimetri, mentre il suo peso dovrebbe essere di circa 60 chili. Veronica Maia. Vita privata e sentimentale. L'amore per il marito chirurgo plastico Marco Moraci e i tre figli. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Veronica Maia è sposata con il chirurgo plastico Marco Moraci, dal quale ha avuto tre figli, due maschi e una femmina, tutti con doppio nome, Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora. Negli ultimi anni Veronica non ha nascosto il desiderio di avere un quarto figlio, idea per il momento accantonata. Veronica Maia. Carriera in televisione. I programmi condotti e la partecipazione alla partita stasera su Rai 2. Elencare tutti i programmi che Veronica Maia ha condotto negli anni passati è praticamente impossibile. Ci limitiamo, perciò, a citarne alcuni tra i più importanti, come Uno Mattina, Linea Verde, Verdetto Finale e Lo Zecchino d'Oro. La scorsa estate è stata la padrona di casa dell'Italia che fa. Trasmissione in onda ogni pomeriggio su Rai 2, fascia oraria nella quale Veronica dovrebbe fare gli onori di casa anche nell'estate 2021. Stasera, dunque, sarà ospite alla partita su Rai 2.